Alfredo, dopo la nostra intervista quanta gente si è fatta viva ti ha mandato messaggi mail? Non me l'aspettavo, sono molto contento, adesso ci tocca lavorare Infatti sono contento perché mi hai chiamato e mi hai detto voglio fare una cosa per tutta sta gente che mi ha scritto per i fan Cos'hai deciso di fare? Voglio fare un drum contest Ok, quindi si vince premi? Si vince qualcosa? Cosa si vince? Assolutamente, sono tre premi, si vince Dimmelo subito Primo premio è un rullante artigianale molto bello in ottone, autografato da me Poi il secondo premio è un piatto mio personale autografato sempre da me Non nuovo, tuo No, mio, quello che uso, uno di quelli che uso io Poi il terzo premio è un pad con due paia di bacchette sempre mie Allora, che bisogna fare per fare questa cosa qua? Lo facciamo su Instagram Quindi Alfredo ha deciso di mettere a disposizione un brano di circa un minuto Perché su Instagram oltre un minuto non ci possiamo andare È un brano che è registrato qui nel tuo studio in un progetto con Masini Dimmi che brano è Allora, il progetto è Cambia Music and Friends Troverete il video originale, l'esecuzione originale che abbiamo fatto con degli arrangiamenti nuovi Sul canale YouTube Cambio Musica Per vedere come l'hai suonata tu Cambio Musica official Chi fa questo brano e lo registra non faccia l'originale Noi mettiamo a disposizione la base senza batteria Quindi c'è spazio per essere liberi, di essere abbastanza personali e suonare nel contesto giusto Quindi i parametri sono questi, insomma non bisogna suonare uguale ma ognuno metta la propria personalità No, vorrei sentire la personalità Perfetto, come partecipare a questo contest? Io partecipo, te lo dico Gianni Tu parteci? Sì, però se vinco poi sembra che... Partecipiamo tutti Allora, vai sulla pagina Instagram di Alfredo Ti iscrivi alla pagina Nella bio trovi subito il link alla pagina web dove puoi scaricare la base audio Ci sono tutte le istruzioni, le scadenze, tutte le domande che vorresti fare C'è già tutto indicato là A quel punto ti basterà ripostare su Instagram il tuo video con l'esecuzione suonata Con l'hashtag Alfredo Golino Drum Contest e ovviamente taggando la pagina di Alfredo E poi i vincitori, Alfredo se li guarderà tutti, se li sceglierà E c'è una bella cosa da dire perché tu avresti piacere anche che venissero qua a Brescia Vorrei consegnare il premio qui a Brescia perché ci sarà poi un altro evento Non lo svegliamo subito perché Alfredo ha deciso di fare una cosa molto bella per i fan Che faremo nella seconda metà di maggio, lo diremo più avanti Però ci sarà la possibilità di venire qua direttamente da te Quindi a sto punto che altro dire? A studiare il pezzo e buona fortuna Io devo studiare l'ascolto e loro devo studiare il pezzo Va bene io farò playback È fatta, ciao Ciao